Due partite, la prima failata, la seconda è quella buona e abbiamo vinto la partita solo con uno zaino, niente elmetto e niente vest, sfido Twitch Italia e tutta YouTube Italia a giocare a PUBG in duo terza persona e vincere così una partita. Questa è la prima di tante altre sfide, quindi mettetevi alla prova, questa è la prima, facile, ne ho altre peggiori, che sicuramente io e Bumbu faremo e poi vi challengeeremo, quindi portatela a tutti gli altri streamer, portatela agli altri YouTuber e challengeateli, fate vedere se riescono, vediamo però, ma anzi non è fate vedere, vediamo se loro riescono, se si mettono alla prova con questa sfida. PUBG già un po' difficile di suo, no? Con randomicità e tutto il resto, mettiamo qualcosa di più, creiamo delle sfide noi, mettiamoci in gioco tra noi Twitcher e tra noi YouTuber, questa è la sfida di Power, la prima di tante altre, no helmet, no vest. Prendiamo una macchina e andiamo a Salerno e ci equipamo, vai. Oh George, pull. Cerco una macchina, brother. Sei un cazzo di assassino, Bumbu. Non capisco l'incurata di avere solo la cintura. Boh, vabbè. Ti aspetto. Sono arrivato. Cazzo una revolver, c'è un nuovo sceriffo in città, ma questo lo push. Oh, c'era un altro Uzz. Un altro Uzz. Se lo nocco così mi fai una sceriffo, cazzo. Tiring a 25 metri. Oh, ma quanta gente c'è? Non è uscito, calo, para. Andiamo all'iporna. Non è uscito. Oh, ma che cazzo c'aveva il braccio? Ah, lo guido io, grazie. Prego. Guarda, guarda che c'è un protone di esecuzione. Dove è vero? Ma lo sai che ho visto tipo un pezzo di carta volare fuori dal magazzino e mi sono cagato sotto? Anche io. Ecco c'è uno zaino, sono da trovato. Mi chiami i vestiti per favore che mi sento ridico. Qua ci stanno dei vestiti qua dentro. Grazie. Mi chiami i piodi. No, troppo lontano. Sarei andato a prenderlo da quel lontano. Lo vado a prendere. Guardiamo dopo, Bumbo. No, pensaci. No, Bumbo. C'è una moto, mi chiami ancora di più. Mi hanno fatto il pieno su questi ragazzi. C'è uno? Aspetta che li tiro sotto, aspetta. No, forza. Sono armati. Allora, quella non è MK14, ce lo voglio, eh. Ora mi cerco un'arma qui dentro. Un'arma. Un'arma. Come vengono da te, eh? Con l'U.A.Z. quello mio. Ma questi li dobbiamo uccidere per forza, Bumbo. Io c'ho una pistola. Però sono armati? Sì. Alla moto. Forrendo che mi partecipi dei tuoi piani, adesso girò. Ma sto cercando un'arma. Ah. E i tizi? I tizi noi li andiamo ad ammazzare, Bumbo. Non ti piace come piano ammazzare i tizi? Allora, Bumbo, loro sono nella fabbrica di cioccolato, ok? Hai un mirino in più? Grazie, Bumbo. Hai un mirino? Hai un mirino in più. Ma è tu? Ah, ce l'hai, Coto. Andiamo. Vuoi altri 30 colpi, tu? Magari. Dove stanno? E qui. Andiamo a prendere quell'altro loot prima. Poi torniamo da questi. Ce li scopamo. E poi se riprendiamo la roba che hanno preso dal loot. Andiamo. No. Bumbo, lo carico io al volo. Tieni la moto calda e pronto a fuggire. Ci sparano, ci sparano dall'altra parte del fiume. Aspetta, ho fatto una stronzata. La moto non ci muove più. No, vabbè. Lo vado a prendere io. Diglielo, diglielo, Bumbo. Diglielo. Diglielo a quello. Diglielo, diglielo. Diglielo, diglielo. Perché sto tornando con l'M24. Gli ho aiutati tutti e due. Prova a riprendere la moto. Prova a riprenderla, a spostarla. Provaci. This vehicle was broken. Ok, va benissimo così. Torniamo indietro allora. No, non va benissimo così. C'è posto. Ah, beh, gli ho aiutati tutti e due. Comunque le ho perso paura. Stavo scherzando. Oh, quello è cattivo. Quello si è arrabbiato, eh. Diro, dirò, Bumbo. Dio, devi star zitto. Bumbo, si è incazzato quello. Fittato. Fittato. Fuori l'altro. Stanno curando, abbiamo tempo di arrivare in casa. Che c'era nel lutto? Eccolo che si muove. Fittato sulle gambe. Vabbè, a me è 24. Sta la casa azzurra e bassa. Merda, si è sdraiato. Se sali lo ammazzi. La prima casa azzurra piccolina sdraiato. La piccolina. Fittato. Mamma mia. Aspetta che arrivo pure a sparare. Dove sta? Hai visto dove c'è? Sì, sì. L'altro sta per sinistra. Proviamo l'amico. Non fanno più gli spiritosi, eh? Eh, può essere, vuoi no. Allora, lo vedo, lo vedo. Aspetta, aspetta, aspetta. Vado a quella depressione. Aspetta, oh, che porco giudice, muoio, eh? Te lo valutare e gli tiriamo. Ok, eccolo. Vai, beh. L'ho mancato con il 360. Non scopo. Vabbè, raga, è difficile dopo il 360. Sì, sì, raga, non ha affatto pegnato il 360. Il 360 è stato scopo. Sta cazzeggiando. Andiamo alla barca, facciamo tutto il giro così. Inchiamo da qua e ci camperiamo. Comunque dobbiamo... Il veicolo è stato morto, Giorgio. Non si sa come si è rotto. È entrata l'acqua nel tubo di scappamento. Alla fine li ho trovati, Pantano. Oh! Oh, my God. M249 è in coming. Ma magari, eh? Punta di acqua, eh? Ma c'è io? No, te sei armato. Io l'M16 preferirei non averlo. C'è un grozza, magari, così. Dei colpi a te. Ah, è lootato. E c'hanno pure una killi. Sali, 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 veloce. C'hanno pure la killi, eh? Ma per essere usato così velocemente o ci portano in giro comunque a barco o qualche minuto a spando quando è passata la costa. Cosa? Secondo me c'è andato... Eh, qua sopra. C'è l'ho davanti, c'è l'ho davanti, c'è l'ho davanti, bro! Lo vedi? Lo tiro, lo sparo? Io, io, io mi sto avvicinando. Se non è come... Ma io ho dato un edge a 32 body. Ti giuro, su Dio. Dov'è? Eh, qua, dalla tua destra. Io trovo la roccia. Mi spara. Oh, ma cazzo, 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 cazzo. Aspetta. Su due, eh? C'è l'ho andata. Vaffanculo. L'altro è lì, eh? È lì, c'è pure il compare. Si chiama Jerry. Claude Hunter 77. Questa cazzo? Attento? No, vabbè. C'è pure il compare? Aspetta il secondo. C'è l'ho andata di questa. Lo vedo. A 2,80. Dov'è? 2,80. Alla fine della... Della collinetta. Non è qua vicino? Cento metri. Nemmeno. 50. Alla fine della collinetta. Dove finiscono le rocce? Ci sta un checkpad in più. E un po' di colpi. Tu vuoi che hai iniziato la R? Sì, e beh, tu non hai niente per l'aereo, quindi sì. C'è una macchina che si muove a nord-ovest. Ok. Vuole andare per il loot, vuole andare per il loot. Preparati a sniperarlo sulla barca. Preparati a sniperarlo sulla barca. 300 metri, se vuoi. Bravissimo. Mi stanno sparando anche altre persone, qualcosa. Eh, sì, li vedo. 3,35. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Vittato col cecco. Guarda dietro, guarda dietro, ora. Vittato di nuovo. Vittato sotto qua che corre. Ci spara col cecco quel tizio all'albero. Knockato. Sto guardando dietro io. L'ho knockato all'albero. Dov'è il tizio, quello là che correva a piedi? Dove è finito? Dietro a qualche albero, sarò andato. Guardo dietro io. La macchia arriva qua? No, ma le case gialle. Knockato di nuovo. Qua sotto? Due, sì, due alle case gialle. Quella tutta a destra. Quella a destra dei buggy. Quella piccola? Ok. Lo vedo? Sparo? Merda. Knockato? L'altro è ritato. Bravo. Puoi buscirli? Sì, questi li dobbiamo levare. Scamperiamoli. Forse? No. Bravissimo. No, hai preso quello knockato. Sì, ho preso quello knockato. L'altro sta dietro la casa, non può stare da nessuna parte. Io l'ho iltato dentro. Io guardo a sinistra, tu a destra. Lo vedo. Morto? Alla basta, giriamoci. Giriamoci, giriamoci. Ritorniamo su, ritorniamo su. Ci sono ancora quelli alla spiaggia a 3,35. Mamma mia, guarda quante macchine che stanno arrivando. Bro, risali sopra veloce. Potrebbe esserci gente che prende la nostra posizione. Bro? Sì, sì, ci sono. Ah, ok. Pensavo che non stavi salendo, scusami. Ah, ci saliamo. Ripendiamoci dalla nostra posizione, God. Vedo quelli che corrono. Vedi l'uazzo? Sì. Hittato uno. Do un'occhiata dietro. Mi devi aiutare a farli, quelli che corrono. C'è uno che gli spara da dietro. Ti hanno ferito. Quello che ti spara è lontano. Arriva da noi un uazzo. Direzione. Arriva qua da noi, arriva qua da noi. Io rimango qua sotto, io rimango qua sotto, bro. Ce li ho qua sotto, tutti e due, eh. Merda. Riesceva a noccarne uno? Forse sì. Mi sposto sulla sinistra, io. Bombo, devi spostarti sulla sinistra, se non ti sparano. Dove stanno, più o meno? Non ho capito. Non lo so, non ho visto dove sono dispersi. Lui, alzio, sta qua sotto. Ce l'ho qua. Uno morto. Ah, ok, era uno solo. Non so, non so se era loro, non so se erano loro. Qua ci sono altri first aid, bro, se mi devi dare una mano a portarmi. Sì, arrivo qua. Ho un copino. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ho preso della roba, vieni qua, vieni qua. Prenditi il cop... Scrolla giù, scrolla giù, scrolla giù. Sì, grazie. Ritorniamo su. Sta correndo ancora. Sta correndo. Cazzo, è l'albero. Vittato. Contro da dietro. Morto. Buono. Vi ho startati qua, qua sotto. Cerchiamo di prenderci sempre le... Eccoli, sono qua sotto. Dammi la mano. Bravissimo, scendi giù, scendi giù. Non so se sono morti tutti, bro. Sì, 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 qui tu sono morti, se è gente però dentro il giallo. Ok, uno nella casa qui gialla davanti a me, questa è la prima a destra. Da prima a destra? Preso, noccato. Lo vedete a destra della casa? Io mi sono spostato un po'. Ok, si stanno fai-tando. Si stanno fai-tando là. Però potrebbe esserci un altro... Io rimango qua. Ok, aspetta, lo vedo. Merda, si è abbassato. Parlami. Eh, dietro la casa. Morto. Woo! Challenge! Nice! Challenge fatta in due secondi, guys! It's easy with the best! No armor! E si vola! Vodo! Ciao! Woo! 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 Grazie a tutti per aver guardato il video.